Oggi a Giallo Zafferano cuciniamo insieme una ricetta che metterà alla prova la tua manualità in cucina Prepariamo insieme le orecchiette Per preparare le orecchiette ci servono farina di semola di grano duro rimacinata, acqua e sale Verso la farina sulla spianatoia e formo una fontana Aggiungo del sale Verso il centro l'acqua e iniziamo a incorporare la farina un po' alla volta Amalgamo il tutto fino a formare un composto omogeneo ed elastico Iniziamo ad impastare Ci vorranno una decina di minuti Copro l'impasto con un canovaccio e lo faccio riposare per 15 minuti Il nostro impasto è pronto e ora vado a prelevare un pezzo e a formare un cilindro Lo lavoro su una spianatoia fino a uno spessore di un centimetro Con l'aiuto di un tarocco taglio dei pezzettini di un centimetro Con l'aiuto di un coltello alla maliscia formiamo delle conchigliette trascilandole sulla spianatoia Rigiro la conchiglia su se stessa in modo da formare un'orecchietta Continuo così con tutte le altre Ecco le orecchiette pronte Puoi scegliere se condirle con il classico cime di rapa oppure un buon sugo al pomodoro Cucinale anche tu!